È il più importante meeting internazionale di atletica leggera che si tiene in Italia. Da anni sta ottenendo un seguito sempre più alto nel nostro paese e dal 2013 viene intitolato ad un grande campione come Pietro Mennea. Stiamo parlando del Golden Gala che il 2 giugno prossimo andrà in scena a Roma all'interno di uno stadio pieno di storia e di prestigio. L'evento fa tappa nella capitale dove sono attesi tantissimi atleti pronti a rendere ancora più importante un appuntamento che si rinnova per il 36esimo anno di fila. Il quinto appuntamento dell'anno ma il primo è europeo perché poi la settimana dopo si andrà in Inghilterra che è sicuramente la patria dell'atletica. Il fatto che si svolge allo stadio olimpico che in memoria d'uomo mi sembra che sia l'unico vero appuntamento di atletica che è uno stadio nato e voluto per le Olimpiadi appunto credo che sia anche simbolicamente una cosa non da poco. A gareggiare all'Olimpico ci saranno 12 medagliati olimpici ai giochi londinesi di 4 anni fa e 32 atleti saliti sul podio di Pechino. Occhi puntati anche sui 14 azzurri presenti, per loro il Golden Gala sarà una bella prova in lista di Rio. Noi speriamo e pensiamo di poter portare agli Olimpiadi una squadra competitiva senza trascurare i campionati europei a Amsterdam dal 6 al 10 di luglio che però per noi rappresenteranno proprio l'ultimo momento di verifica. Numerose discipline coinvolte e tanto agonismo garantito sarà un successo. Nel clip, nelle immagini, nei filmati...